Un intervento, quello di Roberto Scarpinato, che riporta alla mente quei fotogrammi del 31 ottobre 1995, fotogrammi analizzati durante il processo di primo grado contro Mario Mori e il colonnello Mauro Binu e concluso con l'assoluzione dei due imputati accusati di favoreggiamento a Cosa Nostra per non aver arrestato l'allora boss latitante Bernardo Provenzano in un casolare di mezzo Iuso, nonostante la segnalazione del confidente Ilardo ucciso poco dopo. Per Scarpinato la mancata cattura della Primola Rossa di Corleone, arrestato poi nel 2006 a Montagna dei Cavalli alle porte di Corleone, sarebbe rientrata in una strategia per garantire il patto siglato tra pezzi delle istituzioni e Cosa Nostra nel 1993. Ecco che ancora una volta il processo Mori si intreccia con quello sulla trattativa, ma tra i nuovi episodi contestati oggi dall'accusa c'è anche il presunto depistaggio che nel 1993 impedì la cattura a terme vigliatore nel messinese del boss catanese Nitto Santa Paola. Il criterio ispiratore dell'acquisizione delle nuove prove fa riferimento al fatto che, secondo Scarpinato, Mori avrebbe operato per finalità occulte, per disattendere doveri istituzionali come ufficiale di polizia giudiziaria e venendo meno all'obbligo di lealtà nei confronti dell'autorità giudiziaria. Per l'accusa, insomma, ci sarebbero molte zone d'ombra nel comportamento degli apparati investigativi del ROS e del generale Mori, in particolare nelle vicende avversive culminate con stragi e attentati nei rapporti tra mafia, massoneria e servizi segreti deviati. Lo ha detto chiaramente questa mattina anche il sostituto procuratore generale Luigi Patronaggio. Il generale Mori, pur essendo venuto a conoscenza da fonti qualificate, di taluni aspetti di tale complessa strategia dell'attenzione, ha detto Patronaggio, non solo non ha svolto alcuna attività investigativa, ma non si è neppure attivato per allertare alle istituzioni come fecero lo SCO e la DIA. Per dimostrare le nuove tesi di accusa, il PG ha chiesto tra l'altro la citazione di numerosi testi e vari pentiti, tra i quali Gaspare Spatuzza, Sergio Flamia, Antonino Giuffré, Stefano Loverso e Maurizio Avola. L'accusa ha anche chiesto, come aveva preannunciato, l'acquisizione dei documenti e delle testimonianze sul cosiddetto protocollo Farfalla, un accordo tra servizi e DAP per l'uso riservato ed informazioni sui detenuti che avrebbe escluso il controllo della magistratura. Il processo è stato rinviato al 27 ottobre.